Musica Mamma, papà, dobbiamo parlare, si parla di una cosa molto molto importante Oh Julian, vuoi aspettare 5 minuti? Stiamo guardando la tele, ancora un minutino, ok? No, 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 ho aspettato davvero troppo, ho fatto gli anni e ve lo siete dimenticati, non abbiamo fatto la festa, dobbiamo fare la festa Oh oh Martin, non abbiamo dimenticato il tuo compleanno, lo sappiamo, sei il nostro figlio Ma non abbiamo nemmeno fatto festa Julian, ci dispiace davvero tanto, ok? È andata un po' male quest'anno, lo sappiamo che il 4 aprile è avuto il tuo compleanno Però sì, dobbiamo fare una festa Quindi, quindi, posso desiderare qualcosa? Dai, per favore, regali, dai Sì, sì, certo, certo Allora Julian, hai un desiderio ancora? Dai, pensaci Posso desiderare una cosa da entrambi o uno solo? Da ognuno? No Julian, dai, non essere più triste, tutto quello che vuoi Oh sì, proprio quello che vuole sentire dopo È andato molto, molto bene Ma cosa desidero? Magari una casa per me o magari l'anno prossimo Da Emma, da papà, mamma Oh, ho quattro desideri Magari una skateboard nuovo O magari un nuovo tablet O un computer Oppure Una nuova piscina Oppure Un idromassaggio Oh No, insomma E poi questa non è una nuova piscina Possiamo rimettere dentro l'acqua, no? Oh, Claudio, una cosa Ma perché non abbiamo fatto la festa del compleanno di Julian? Oh, non ne ho propria idea Non lo so che cosa abbiamo pensato Insomma, l'anno scorso è andato tutto benissimo In quest'anno, invece, guarda, era tristissimo Oh, Claudio, Claudio Ci penso io Parlo con lui, ok? Ma Julian, allora, come va? Perché sei qui in piscina da solo? Ah! Uh, papà, da dove sei arrivato? Sì, sono qui da solo E pensavo che manca l'acqua Quindi un mio desiderio per il mio compleanno È che tu qui riempi di nuovo la piscina Cosa è il mio primo desiderio? Sì, certo Non c'è problema Altrimenti possiamo anche aspettare fino all'estate No, 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 papà Non fino all'estate Oggi Sì, ok Fa caldo, va bene Grazie, papà Sono molto contenta Massimo oggi pomeriggio Deve starci dentro l'acqua, ok? Perché voglio andare in piscina Uh, spero di riuscire a riempire tutta la piscina Di solito lo faccio in modo un po' diverso Ma devo improvvisare Ok, ora tocca Anna Oh, Julian, cosa vuoi? Sto guardando un video Ah, non lo sai, ma ha avuto il compleanno, no? Posso dire Oh, dai, Julian, ma non ti regalo proprio niente Cosa? No, no, no Se vuoi qualcosa avere del mio denaro De... No, no, no Scordatelo Donna, devo riprovarci Ora non va Ok, allora Controlliamo la temperatura Uh, fa ancora un po' fredda Ma vabbè Martin, ma cosa stai facendo? La piscina Oh, tesoro Cosa devo dire? Julian, l'ho desiderato Ma, ma Non fa un pochino freddo? Insomma Poi gela di nuovo l'acqua Dici Non è ancora estate Ciao, no Come stai? Eh, bene Sto giocando col mio castello delle principesse Vuoi giocare? No, non ci penso neanche Vuoi una cosa breve? Ho compito gli anni E ho un desiderio, ok? Eh, cosa? Come? Un regalo? Uh-huh Sì, l'hanno detto mamma e papà Quindi devi farlo Non ha soldi? No, no, no Non costa niente Non hai bisogno di soldi, ok? Devi semplicemente dire di sì tutto il giorno Ok Ma non pensare che lo farò tutto il giorno, ok? Lo faccio solo perché hai compito gli anni, ok? Sì, ok, solo oggi Allora Emma Vuoi venire con me? Eh, sì Molto bene E... Mi aiuti? Hm? Sì Molto bene Allora, prima di tutto dobbiamo andare da Anna Devo riuscire a convincerla, ok? Mi aiuti? Sì Ciao, sì Oh, che cosa ci fate voi qui di nuovo? Eh, volevo solo dire qualcosa Allora ho chiesto a Emma E chi ha detto che è la più bella camera E ho detto che è la mia più bella, vero? Mmh, sì E ognuno desidera scambiare la camera con me Sì, vero E sono un buon fratello Il mio fratello Quindi sono pronto a scambiare la mia camera con la tua Puoi avere la mia Prego Sì Grande idea Julian Una grandiosa idea È una sciocchezza Oh, no, non essere così Ho compito gli anni Dai, scambiare la tua camera con me Solo per oggi Oh, Julian Non scambio la mia camera con te Sei impazzito? Oh, ma come faccio a convincerla? Eh, sei la migliore sorella Se sei la migliore Se lo fai Sei la migliore? Sì Pensavo di essere io la migliore sorella Ma devo dirsi tutto il tempo Sì Sei la migliore Sì, Anna Ok, va bene Ma solo per oggi Solo perché hai compito gli anni Tadà E anche questo ha funzionato Ogni tanto penso che sono la persona più intelligente del mondo Sì, Julian Certo In verità non lo penso Ma vabbè Oggi Tadà La mia nuova camera Oh, è molto molto più grande della mia Potrei restare sempre qui E P Anche tu puoi restare qui ovviamente Oh, ora pure Un animale domestico Julian, volevi parlare un attimo con te Per quanto riguarda la piscina Julian Anna, ma cosa ci fai qui? Sì, ho dovuto scambiare la camera con Julian Julian ha detto che l'avete detto Che insomma Puoi decidere oggi Tutto quello che vuole Penso che il tuo Sistema è un po' esagerato Ha desiderato qualcosa da tutti Ora esagero un po' Sì, mi ha dato fastidio tutto il tempo E voleva scambiare tutti i costi La camera con me Quindi alla fine ha detto di sì Sì, sono io Julian Sì, volevo invitarti alla mia festa Quando? Oggi ovviamente Ciao Sara, sono io? No, non sono Steve Non sembro Steve Oggi sei invitato alla mia festa? Sì, oggi? Anna, mi dispiace Non ho mai detto che Julian Deve scambiare la sua camera con la tua Penso che stia esagerando un po' Emma, tutto bene? Sì? Dimmi Emma Secondo te Julian oggi è normale? Sì Tutto normalissimo Come sempre Ok Se lo dici tu Io non la penso proprio così Ma vabbè Mamma Emma Penso che dica tutto il tempo solo sì Mi sembra abbastanza strano Ok Devo parlare un attimo con Julian Non so tutto quello che abbia in mente Ma Che cosa ci aspetta ancora? Sì Anna Ora nella camera di Julian Quindi Julian è nella camera di Anna Vado a vedere Julian Sei un po' esagerando Non pensi? Ciao mamma Che cosa c'hai? Dato che potevo desiderare qualcosa Da tutti Da mamma Da te desidero che oggi facciamo una festa in piscina Una festa in piscina Non sapevo nulla Oh oh Suonano Chi c'è ora? Oh mamma È ovvio Sono i miei invitati Ho invitato tutti i miei amici Ma cosa pensi? Come dire che faccio la festa da sola? Ospiti? Ma non sapevo che sarebbero arrivati degli ospiti Non ho preparato nulla Non ci sono le bevande Non ci sono i dolci Oh no Che madre sono Oh ma quanti sono? Ma Julian quanti ne hai invitati? Oh no Martin Penso che vada bene Che Julian faccia semplicemente così Le nostre spalle Una festa Non sapevo nulla Claudi Non sapevo nemmeno io Ma ordiniamo una pizza E poi andrà bene Ok? Ehi molto grazie per essere venuto Oh Dave anche tu Oh no Beh comunque Tra poco inizia la festa E perché incominci la festa come si deve Vi faccio vedere Il vero salto di Julian No? Com'è stato? Wow Come è? Oh è fredda Oh sì Ma che caos Ma sì Si vede che è il party di Julian Io l'avrei fatto in modo un po' diverso Ma vabbè E ora si continua con la festa Potete restare in piscina Oppure andiamo nella mia nuova camera Julian la tua nuova camera per oggi Ok eh Oh Justin anche tu sei qui Cioè io ma Se vado un po' Non ti muovete sempre così carina Sì Oh Wuhuu Ah è la tua La migliore fossa di sempre E' la tua